Il rapporto con i gatti è un rapporto, devo dire, un po' morboso, quindi se vogliamo parlare di rapporto con i figli, sono un po' i miei figli, ma mi lancerei così tanto in alto. È un rapporto molto morboso, soprattutto con lei, io ho quattro gatti, lei è molto attaccata a me al punto che non riesce a vedermi andare via, non riesce a distaccarsi e non so perché anche in questo caso vedo molto lo specchio del rapporto fra me e mia madre, come se io avendo lei in casa, avessi un po' riversato questo rapporto un po' malato che ho avuto con mia madre, che era di estremo odio da una parte, estrema cattiva da una parte, ma di grande coesione, di grande attaccamento, era come se il cordone ombelicale non si fosse mai staccato. E con lei un po' questo rapporto è come se avessi riversato, quindi avessi ripulito quel sangue infetto grazie al mio gatto. Grazie. 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 Grazie.